Antonella, l'associazione Win-Win ha da poco iniziato la parte operativa del progetto Terra dei Santi, una tua idea che da settembre entrerà nel vivo. Come è articolato il progetto e a chi è rivolto? Beh, hai detto bene, un'idea che è partita non oggi ma che prosegue oggi coinvolgendo più soggetti. Ma è partita qualche anno fa, ben prima del Covid, con l'amico Massimo Falcade e quindi anche lo stimola a creare un'associazione dedicata che tuttora vive e che vuole mettere insieme un po' non soltanto la parte religiosa di questa città ma ricuscire intorno a questa identità i cittadini e la voglia di riscoprirsi. Il progetto prevede anche l'incontro e il recupero della storia di alcune famiglie di Casoria. Sì, ed è questo il filo conduttore. Pensare di stimolare le associazioni, i cittadini, chiunque ami questa città, di agganciarsi al filone di terra dei Santi non soltanto come ripercorrere la storia dei nostri Santi ma ripercorrere la nostra storia. È una volontà di ricordarci chi siamo, di raccontare chi siamo, a chi è venuto dopo nel tempo ad abitare a Casoria e come dico a volte è arrivato senza trovare una città. Ma noi sappiamo che siamo stati una città, che possiamo essere una città ma non basta volerlo da qualcun altro, dobbiamo incominciare da noi stessi come in tutte le cose. Riappropriarsi del territorio non solo da un punto di vista fisico ma proprio da un punto di vista culturale, ritornare a vivere la città di Casoria. Beh, io dico siamo qualcosa senza cultura. La differenza tra un essere umano e un oggetto inerme sta tutto lì, nella nostra capacità di sentire le cose, di interpretarle, di trasformarle. È senza un'attività culturale che non deve essere per forza identificata come un qualcosa di elitario o di relegato a un mero studio ma è invece la ricerca, la ricerca di noi stessi, la ricerca di quello che siamo e il contatto, l'interazione con gli altri. È dal confronto che si fa cultura. Senza confronto non c'è socialità, senza socialità non c'è neanche l'essere umano. È per questo che il progetto Terra dei Santi prevede degli incontri dove possono partecipare tutti, ragazzi, adulti, italiani, stranieri, persone che seguono diverse religioni. Certo, questo è proprio il pezzo che ha voluto creare l'associazione Win-Win. Il mio ruolo è quello di lanciare diciamo delle proposte, stimolare più che altro delle idee e poi però fare in modo che le persone si trovino al loro agio per sbizzarire anche un po' la fantasia e anche un po' sciogliere il coraggio. E allora il coraggio di interpretare questo titolo che invece negli ultimi anni è diventato sempre più citato, Terra dei Santi, ma non come un qualcosa di monolitico ma come dicevo prima un filone intorno a questa spina dorsale ricostruire il corpo di questa città. E questo pezzo di progetto di Win-Win è proprio l'incontro, l'incontro con i giovani, l'incontro con anche i nostri referenti delle case dei nostri Santi, ma facendoli scoprire il patrimonio artistico, culturale che abbiamo a Casoria. Qualche anno fa io accompagnai il presidente di Luca in una passeggiata qui a Casoria nella congrega, nella congrega di San Mauro. E lui era venuto diverse volte a Casoria e guardandosi intorno diceva, avete tutto questo. Sono venuto diverse volte e non l'avevo mai visto. Ecco, noi stessi dimentichiamo quello che abbiamo, a volte non lo conosciamo neanche e quindi non siamo in grado di farlo conoscere. Era la prima volta nella storia che un referente politico che rappresenta il nostro territorio tutto, vedeva Casoria con un'immagine diversa, con un'immagine di cultura, di arte e di bellezza. E questo è lo spirito del... Questo è lo spirito, però lo recuperiamo naturalmente, tu dicevi, a chi è rivolto? Rivolto a noi. Rivolto a noi per il piacere di rincontrarci, di riconoscerci, di ricordarci ecco che non siamo soltanto questo squallore che ormai ci circonda, non siamo soltanto una città dormitorio, ma che possiamo e dobbiamo ritornare una comunità. E come possiamo farlo? Creando dei momenti di incontro, creando dei momenti di conoscenza e creando anche dei momenti di orgoglio. È un primo momento di incontro, lo stiamo organizzando per fine settembre, dove verranno lanciate tutte le attività dell'associazione relative al progetto Terra dei Santi e faremo vedere un po' quello che stiamo realizzando in questo periodo in giro per Casoria. Sì, spero che questo lo vogliano fare anche proprio chi promuove, fa vivere questa associazione e che si possano unire anche altre associazioni, ma non soltanto, anche altri cittadini. Ecco, anche quel pezzo dedicato alla ricostruzione delle famiglie di Casoria, io mi auguro che ne risponderanno in tante. Molte me lo chiedono, perché io stessa faccio parte di una famiglia originaria, sia da parte di mamma che di papà, di Casoria. E quindi forse, ecco, mi onora, ma mi dà anche un grande peso, quello che spesso mi chiedono Antonella, perché non fai qualcosa per Casoria? E allora io ho sempre voluto fare qualcosa per Casoria, ho sempre, a mio modo, fatto qualcosa per Casoria. Però partendo da questo, io non sono una che deve correre, deve arrivare in fretta, le scorciatoie non mi sono mai piaciute. E se vogliamo fare qualcosa per Casoria non basta fare un progetto elettorale, lo dico subito, questo non è né un video né un'idea elettorale, altrimenti avrei pubblicizzato quella lettera, quella risposta del Cardinale Sepe quando ho lanciato l'idea di Terra dei Santi, una lettera bellissima che poi magari mostriamo in un'altra occasione, e non voglio farlo, non l'ho mai fatto, perché so che le cose importanti, solide, hanno bisogno di tempo per essere costruite e per consolidarsi. E allora non basta un'elezione, non basta uno spot elettorale, se vogliamo fare qualcosa per noi, dobbiamo ricucire il tessuto sociale tra i cittadini. Io non sarò mai una che si presta a facili sponsorizzazioni, diciamo così. Ci vuole un tempo lungo, ma sono tornata da Roma, vivevo in un posto meraviglioso, ma io sento mia questa città. E non prenderei mai in giro nessuno dicendo che posso da sola salvarla, ma sicuramente se qualcosa di buono ho fatto nella mia vita, l'ho fatto insieme agli altri. Con il tempo giusto e con una testa dura, che forse è anche un po' il mio difetto, ma tante volte è il mio pregio. Quindi vi invitiamo a seguire il progetto Terra dei Santi e a seguire l'associazione Win-Win. Sì, io mi invito a tirar fuori la voglia di fare, di stare insieme, anche in maniera assolutamente goleardica, col piacere di incontrarsi, perché non è detto che dobbiamo fare soltanto cose impegnate, strutturate, formali. Quindi ritroviamo il piacere di rivederci nella nostra città. È l'unica città dove non ci si può conoscere. Se ci incontriamo, ci incontriamo sempre altrove. Se ci riconosciamo lavorativamente, è sempre altrove. Perché? Non mi posso rassegnare a questo. Terra dei Santi, San Luvico, 4-2 seconda, due macchine.